Entrano scodinzolanti al guinzaglio i cani alla villa floridiana dopo l'approvazione del nuovo regolamento, già affisso all'ingresso del parco. Una misura che però, nemmeno il tempo di entrare in vigore, è già alimentato polemiche e lamentele. Da un lato si sottolinea come a Napoli manchino spazi verdi dedicati ai cani, dall'altro si punta il dito contro l'inciviltà di molti proprietari. Non c'è una zona adibita ai cani in questo momento, non ci risulta una aiuola solo per i cani come avviene per esempio al bosco di Capodimonte. Detto questo abbiamo qui in Floridiana uno o due prati per tutti quanti, dove ci sono bimbi, dove ci sono persone adulte eccetera. Ci aspettiamo che prima o poi vengano anche i cani sopra questi prati. Si dirà che è affidato al buon senso del padrone, ma come sappiamo questo non sempre avviene. Ci sono controlli, ci saranno controlli. A questo punto non ci potremo più sdraiare e godere del pratone che da anni e anni è una delle poche cose che ci stanno in Floridiana. Il cane che scorrazzava col padrone sopra le aiuole e non è giusto questo perché lei dice sì ma quelli cittadini si deve. I cittadini per il 99% sono degli incivili, lo sappiamo. Vediamo lo stato in cui si trova Napoli. Ma io in primo luogo mi chiederei perché metà del parco è chiusa ancora e questi lavori non vedono la fine. Poi ritengo che i cani al guinsaglio, raccogliendo tutto eccetera, non creino problemi. Basta essere educati e rispettosi delle regole. Io oggi sono entrato per la prima volta, ho chiesto alle guardie qual era il regolamento. Ovviamente ho tutto con me il necessario, guinsaglio, sacchettini per i rifiuti, anche un po' di liquido per qualche spruzzatina in eccesso, museruolo ovviamente in caso di necessità. È ovvio che qualcuno possa non essere d'accordo ma in fondo il verde è di tutti. I bambini hanno diritto di correre liberamente e, mentre io parlo con lei, un cagnolino, sia pur piccolo, corre da solo liberamente sul prato. Sono contraria, ci sono altri spazi e altre circostanze per gli animali. Non è possibile che noi non abbiamo spazi al vomero e quei pochi che abbiamo devono essere così condivisi.